Carichiamo le foglie. Cerchio e seno attraverso NT 10 gennaio 2004. Alexander. Questa sera dobbiamo mantenere una promessa. Dobbiamo portare le foglie. Si tratta dell'apporto di foglie di alloro dalle proprietà terapeutiche, come verrà spiegato nel prosieguo dell'intervento di Alexander. Dorotea, Melita e Alessandra stanno lavorando con altre guide naturalmente per produrre il fenomeno. Per i nuovi dirò brevi parole riguardo a questo fenomeno. Noi carichiamo le foglie di una energia che voi non conoscete, che i vostri scienziati non conoscono e che noi abbiamo denominato, creando un neologismo, energia etero-cronica. Per gli appassionati della semantica è importante sapere che questo termine è un termine composto. In definitiva, detto con altre parole, significa semplicemente energia diversa dal tempo in cui vivete, in cui voi soffrite, in cui agite. Questa sera non possiamo fare grandi cose, perché l'energia è richiesta in molta, non tanto per caricare le foglie, ma per produrre il fenomeno di apporto.